Quale articolo della Costituzione italiana parla del domicilio? L'articolo 13 della Costituzione italiana parla della abitazione che non può essere perquisita, messa a suo quadro, da nessuno, senza un preventivo, ordine di un giudice. Vi devono essere delle reali motivazioni perché la forza dell'ordine entri in una abitazione privata per poter controllare ciò che è dentro l'abitazione. Questo per quale motivo? Durante il fascismo le squadre fasciste spesso andavano di casa in casa, controllavano e violavano le abitazioni dei cittadini italiani per punire coloro che andavano contro il regime. Le squadre fasciste entravano dentro le abitazioni private spesso perquisendo, senza nessun preventivo, ordine di nessun giudice. La legge permetteva che le squadre fasciste potessero entrare in una abitazione privata per poter controllare e punire tutte le persone che andavano contro le regime. L'articolo 13 ha lo scopo di impedire quello che era avvenuto durante la dittatura fascista. Il primo articolo della nostra Costituzione, dopo i principi fondamentali, cerca di tutelare l'abitazione dei cittadini italiani. Grazie a tutti. ciao al prossimo video vi aspetto